Grazie signor Presidente, signor Ministro, siamo completamente soddisfatti della sua risposta e lo siamo non formalmente ma sostanzialmente. Politiche di bilancio virtuose e responsabili che mettono al centro la cultura come pilastro fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. Noi crediamo che se vogliamo guardare al futuro dell'Italia dobbiamo investire in educazione, formazione e cultura perché è la prima risorsa che abbiamo. Ma questo non può avere una logica di assistenzialismo, deve avere la logica della risorsa pubblica come un moltiplicatore delle energie positive che esistono nella società. Il pubblico dà l'indirizzo, dice gli obiettivi, anche nella cultura, mette le risorse necessarie, fondamentali perché quel pilastro possa rimanere un pilastro forte e attiva con coraggio, serietà e responsabilità le risorse che esistono con il privato perché pubblico e privato insieme possono raggiungere un unico scopo che è il nostro obiettivo, si chiama bene e comune. Ed è per questo che noi siamo contenti della risposta puntuale che lei ha dato una risposta puntuale che non ha solo un'immagine generale, un ideale, un idealtipo si direbbe ma si traduce poi con azioni concrete e fatti.